Benvenuti nel mondo degli orologi Angelus. Angelus è un brand di orologi fondato in Svizzera nel 1891. La vasta gamma di segnatempo Angelus comprende orologi da polso con varie complicazioni, come il cronografo, la funzionalità GMT e il tourbillon. La manifattura abbraccia la tradizione orologera lavorando con i materiali classici e i metalli preziosi, ma ama anche le sfide e le possibilità offerte da nuovi materiali come la fibra di carbonio. La collezione Angelus unisce il meglio dell'alta orologeria vintage con design e materiali contemporanei, con finiture spettacolari realizzate anche attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie come l'incisione laser. La passione per l'innovazione è sempre stata il marchio di fabbrica di Angelus. Come dimostra l'introduzione dell'orologio, Cronodate, nel 1942. Questo storico segnatempo presentava uno dei primi calibri con cronografo e indicazione della data contemporaneamente. Queste due complicazioni sono ben visibili sul quadrante grazie a due piccoli indicatori per il cronografo e con i 31 giorni del mese visualizzati sul bordo del quadrante per la data. La collezione Angelus si distingue per il suo design senza tempo, che unisce il meglio dell'alta orologeria vintage con le tecnologie più moderne. La gamma di orologi comprende diversi modelli, tra cui il cronografo U30 Tourbillon rattrapante, uno dei primi orologi al mondo a combinare un rattrapante monopulsante con un tourbillon volante. Se sei un appassionato di orologi e cerchi un segnatempo che unisca l'innovazione alla tradizione, Angelus è la scelta perfetta. La qualità dei suoi movimenti e segnatempo, l'attenzione ai dettagli e l'innovazione tecnologica fanno di Angelus un marchio ambito dai collezionisti di tutto il mondo.